Biogas Italy 2018, Roma. Siamo in compagnia di Mauro Nicoletti di Schmack Biogas che ci racconta una storia particolare. Un'azienda tedesca del settore del biogas che lo scorso anno in controtendenza è diventata al 100% italiana. Nicoletti, come è successo? Sì, è una storia un po' particolare. Siamo abituati che solitamente l'economia tedesca è quella che domina e acquisisce le tecnologie di fuori. Siamo abituati alle acquisizioni di aziende italiane da parte dei tedeschi e questo è un caso all'inverso. Noi nasciamo come azienda tedesca, la derivazione della nostra azienda viene dal nord di Monaco, però a partire da quest'anno la proprietà dell'azienda è stata acquisita da italiani, quindi un caso in cui è diventato made in Italy qualcosa che è partito come made in Germany. Ecco, vai ci spieghi, nei particolari come è successo? Come mai i tedeschi hanno mollato la presa? Hanno mollato la presa perché probabilmente in generale il settore biogas tedesco si è dimenticato di pensare al proprio futuro. È stata una pecca probabilmente degli operatori del settore, si pensava che il biogas fosse in generale indispensabile ma non si è smesso di raccontare cosa si faceva e di fatto praticamente il settore è fermo in Germania da 4-5 anni. In questo senso il lavoro che abbiamo fatto in Italia sia come aziende che come associazioni, il CIB che è associazione di cui siamo membri, è anche quello di cercare di immaginare un futuro, cioè immaginare il ruolo del biogas all'interno del sistema energetico nazionale come un'evoluzione, non come un ruolo statico. Ecco, nello specifico ci ispirare cosa fa questa ex azienda tedesca? Noi ci occupiamo della costruzione di impianti, siamo fornitori di tecnologia, ci occupiamo della progettazione e della realizzazione delle componenti e operiamo sia poi anche nel settore dei servizi post vendita, quindi le manutenzioni, sia di impianti biogas che di impianti biometano. Ecco, abbiamo parlato di una sorta di mancanza di visione che è ancora più sorprendente perché noi guardiamo alla visione della sostenibilità e dell'ecologia e delle rinnovabili dei paesi del nord Europa. Ecco, voi che visione avete per il futuro di questo settore, per il biogas che è rinnovabile e che può aiutarci a combattere le sfide climatiche? Beh, sicuramente l'impianto biogas ha due ruoli fondamentali all'interno del sistema. Il primo è una valenza all'interno del sistema energetico, cioè è un'energia che fa da stabilizzatore del sistema. Il sistema energetico futuro avrà grosse componenti discontinue di produzione di energia, quindi abbiamo bisogno che queste fonti siano bilanciate da sistemi che accumulino questa energia e quindi il ruolo del biogas in questo è fondamentale, quindi complementare a eolico e fotovoltaico che faranno la parte del leone. Il secondo ruolo che gioca il biogas è a livello ambientale, cioè avendo una fortissima connessione con le attività agricole è un elemento fondamentale di una futura agricoltura che si concentra da un lato sulla produzione di cibo e dall'altro sugli effetti che la produzione di cibo ha per l'ambiente, quindi quanti pesticidi vengono impiegati, come fertilizziamo i nostri terreni, qual è la sostenibilità ambientale generale della produzione di cibo. Bene, grazie Nicoletti. Una storia diversa, un'azienda tedesca che diventa italiana, da Biogas Italy 2018, Sergio Ferrares. Grazie. 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 Grazie.